Buonasera e bentornati in diretta per l'ultima puntata dell'anno di Primo Cittadino, puntata che dedichiamo al Comune di Monbaroccio e al Sindaco Emanuele Petrucci. Buonasera e bentornato nei nostri studi. Grazie, buonasera a voi. Vi ricordo i numeri di telefono per intervenire in diretta, 0721 86 14 33 oppure un messaggio anche su WhatsApp al 338 49 68 250. Sindaco abbiamo visto anche nel corso del telegiornale che tutta Italia, ormai lo sappiamo in attesa di una nuova stretta da parte del Governo, che si riunirà in cabina di regia giovedì, però intanto comuni, sindaci stanno decidendo di o annullare eventi già organizzati o comunque di non prevedere nulla, quantomeno per Capodanno. Monbaroccio già ne avete parlato, ne avete discusso di questo? Ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso, ma anche a seguito di tutto l'impegno che abbiamo messo nei mercatini natalizi abbiamo deciso che eviteremo sotto le festività di Natale qualsiasi assembramento che possa essere in piazza o in altra situazione. L'impegno dei mercatini è stato puntuale, è stato fatto veramente con tutti i carismi del caso e con tutte le accortezze che si necessitavano. L'impegno è stato enorme per rispettare tutte quelle che erano le normative imposte, quindi andare in questo periodo, visto l'aumento dei casi, a fare qualcos'altro che possa fare assembramento lo eviteremo almeno per il periodo fino alla Befana sicuramente e poi vedremo cosa dire al Governo. Un periodo ancora difficile per imprenditori, attività, per famiglie, però avete dato il vostro contributo anche con l'aiuto di una slide, possiamo cercare di ricordare a casa quanto è stato fatto? Assolutamente, l'impegno nostro è stato importante perché come piccolo comune, grazie anche ai fondi ministeriali, nonché alle risorse comunali, abbiamo elargito oltre 70 mila euro per quelle che erano le famiglie, cioè tutti coloro che impossibilitati dall'attività lavorativa causa Covid non hanno potuto svolgere nemmeno la stagione estiva per quelle che erano le ristrettezze. Dall'altra abbiamo fatto 35 mila euro di impegno per quanto riguarda le aziende, le micro e le piccole imprese con una riduzione della Tari che hanno trovato nell'ultimo saldo di dicembre più altri 38 mila euro elargiti direttamente sui conti correnti delle micro e delle piccole imprese. Quindi un impegno importante per un piccolo comune che procederà anche per l'anno 2022. E sempre in tema sanitario, nei giorni scorsi si è recato a Vallefoglia per sostenere l'appello del Presidente dell'Unione dei Comuni e Sindaco, Palmiro Ucchielli, la richiesta è stata quella di riaprire un hub per i vaccini. Siete stati ascoltati, avete avuto un riscontro, una risposta da parte della Regione? La risposta è stata nel riaprire l'hub per quanto riguarda il punto vaccinale 5-11 anni, quindi con l'ausilio dei pediatri per quanto riguarda il sostegno dei più piccoli. Al momento quello che la Regione ha risposto è l'utilizzo dei camper vaccinali sul territorio come quello che sarà a Monbaroccio il 27 di dicembre e che sta facendo rete su tutti i comuni della provincia di Pesor Urbino. Quindi la prima risposta per quanto riguarda i vaccini, anzi invito i miei concittadini il 27 ad aderire tra le 9 e le 13 della mattina presso la piazza comunale per l'utilizzo della somministrazione del vaccino. Però ancora un hub per il resto della popolazione? Ancora non è prevista. Lei era stato anche uno dei primi sindaci a rispondere all'appello dei sindacati per quanto riguarda la situazione degli ospedali Marche Nord, era stata richiesta anche la convocazione dell'assemblea ad Aria Vasta, lì è successo nulla oppure siete in attesa? Allora la richiesta sinceramente è presso Paolini, il presidente della provincia di Pesor Urbino, nonché presidente dell'Aria Vasta, era stata già da me anticipata a metà di novembre. Quindi la mia richiesta anche a fronte di quello che era l'indirizzo ospedaliero per l'ospedale a Pesaro della provincia di Pesor Urbino, perché ci tengo a dire che l'ospedale è a Pesaro, ma non è di Pesaro, ma l'ospedale è di tutto il territorio. E questo per me è fondamentale. Nonché come riempire quella struttura, secondo me è un fattore di discussione all'interno dell'organo preposto che è quello dell'assemblea dei sindaci. E su questo avremo modo di conferire, sembra dopo le vacanze natalizie, secondo le indicazioni del presidente Paolini. Nei giorni scorsi sempre lei è venuto nel comune di Fano per presentare insieme al sindaco Massimo Seri il progetto della ciclabile Fano-Mombaroccio. Vediamo in questo momento le immagini della conferenza stampa. Un percorso, lo avete definito, green, che collegherà i due comuni attraverso in realtà percorsi già esistenti. Ed è da tempo che lavora sul progetto. È tanto che ci lavoro, è tanto che ci lavoro perché ci tenevo a fare rete con i comuni più importanti perché siamo di fronte al secondo e al terzo comune che confinano con Montbaroccio, quindi Fano e Pesaro. Pesaro oggi mi ha chiamato e quindi ha chiesto un confronto dopo che abbiamo presentato il progetto. Mi fa molto piacere perché ha risposto a quello che era l'appello del sottoscritto del sindaco della tua città, Simona. Quindi siamo qua a discutere un progetto importante che collega due vallate, Foglie e Metauro, attraverso un percorso green che passa non solo per le nostre vallate ma anche per tutte le attività produttive. Pensiamo all'olio, pensiamo al miele, pensiamo al vino che possiamo produrre nei nostri territori valorizzando i nostri produttori. Quindi un percorso che non richiederà asfaltatura ma richiederà il recupero dell'esistente rafforzando anche gli argini del fiume Arzilla per mitigare quelle che sono le difficoltà che a valle spesso avete nella città di Fano. Quindi un percorso che va nell'ecosostenibilità, nella valorizzazione della cultura del territorio perché attraverseremo mulini, attraverseremo chiese, anche se qualcuna purtroppo è diroccata vedi quella della Miana ma sarebbe anche bellissimo l'oggetto di recupero e quindi fare rete ci permette di valorizzare la cultura, di valorizzare il turismo perché è un turismo ricercatissimo quello che stiamo vedendo dalle immagini adesso e pensare che Simona d'estate da Fano prende la bicicletta, magari assistite e mi viene a trovare al Beato Sante, poi pomeriggio scende al mare potrebbe essere anche un percorso turistico tra il verde del nostro bosco e il mare della vostra città. Prima di ricordarle il percorso, proprio perché si parla delle due ruote c'è arrivato un messaggio da un nostro telespettatore dice da motociclista, per me il Beato Sante è sempre una tappa durante i miei giri turistici mi dispiace che quel piccolo bar sotto il santuario dopo la chiusura non è più stato riaperto non si può trovare una soluzione, sindaco? Guardi, è una ferita aperta perché comunque quel chiosco, quel barettino ricorda tanto la mia infanzia e tutta l'attività delle persone che ci vivevano e che lavoravano all'interno di quella attività economica so che i frati minori del santuario, i francescani a cui vogliono bene dell'anima stanno lavorando per recuperare anche quell'ambiente a fronte di un percorso che è in via di definizione quindi io mi auguro, naturalmente come amministrazione avranno tutto il nostro supporto per far sì che quell'attività che è privata e non è pubblica possa avere un seguito e da parte nostra ci sarà tutto il nostro sostegno. Ritorniamo un attimo al percorso della ciclo Arzilla perché passerà da Fano per Carignano giusto? E poi dove proseguirà? Allora le Terme diventano la punta di diamante di questo percorso perché salendo dal Fenile per dove si è interrotta attualmente la ciclabile si interfaccerà in piccola parte sulla provinciale poi si internerà in via del Gatto credo che si chiami Fano adesso non voglio essere però mi sembra di ricordare che si chiami così Ponticello poi si sale verso Carignano per la parte interna si scende alle Terme e si sale per Villa Grande, sono sei stralci complessivi ad Anello il primo stralcio quindi arriverà alle Terme di Carignano il secondo stralcio riguarderà Carignano fino a Villa Grande Villa Grande a confine perché si partirà col terzo stralcio Bevano salendo per Monbaroccio a scendere per il Pontaccio e uscire al Borgo al centro storico e lì siamo al terzo stralcio, il quarto stralcio è a scendere per il Cairo quindi siamo in Monbaroccio fino a Villa Betti dove entreremo nel comune di Pesaro per chiudere il quinto e sesto stralcio fra Villa Betti e Santa Maria della Razzilla ed ecco l'anello la duttilità del percorso permetterà eventualmente anche Pesaro dovesse interagire di collegare per Ginestreto la vallata del Foglia e per Fano la vallata del Metauro quindi Monbaroccio potrebbe essere finalmente collegato tramite una ciclabile anche alla ferrovia che è quella di Fano per poi scendere per quello che è il nostro bellissimo litorale adriatico Un impegno di spese importante, siete alla ricerca di finanziamenti? Assolutamente sì, non sono risorse che abbiamo in cassa abbiamo cofinanziato il progetto col comune di Fano che ringrazio infinitamente perché senza il comune di Fano non saremmo riusciti a realizzare tutto ciò un progetto da circa 20-25 mila euro cofinanziato per il 75% della città della Fortuna quindi da parte nostra un sentito ringraziamento a tutta la Giunta Comunale e all'assessore e al sindaco che hanno seguito questo progetto Un altro messaggio per lei che futuro avrà la struttura ex Bricciotte di Monbaroccio? Mi sembra che la regione stia attuando una melina sospettosa Mi piacerebbe contraddirlo mi riservo 48 ore per contraddire questa melina perché non è così il rapporto con la regione è stato costante è stato importante è al vaglio della Giunta regionale un progetto importante questo lo posso dire che credo che prima di Natale se tutto va bene possa essere oggetto anche di pubblico interesse e di manifestazione anche agli organi di stampa quello che abbiamo potuto fare come amministrazione sicuramente in questo periodo è cercare di tenere attiva la struttura tenerla viva e riaprire il punto prelievi perché dopo quello che era successo appena insediato perché era ottobre 2019 la chiusura della struttura aveva creato grossissime difficoltà sia agli ospiti sia al personale dell'RSA ma anche in merito al punto prelievi che venendo meno aveva creato un grossissimo disservizio sul mio territorio Eccola qua, vediamo la foto che avete inserito nel vostro piano di progetti realizzati e investimenti appunto come diceva il punto prelievi presente nella struttura Sì, era una mattina a fare il prelievo credo che fosse la seconda giornata in cui era aperta la struttura e quindi mi sono permesso di fare una foto con gli operatori quella mattina per pubblicizzare la cosa anche perché chiedo ai miei concittadini di fare gli esami per curarsi e per prevenire approfitto anche, visto che ho avuto un incontro con l'Avis in questi giorni che ora è rilanciato sul mio territorio anche visto che siamo sotto Natale approfittate per donare perché è il dono più bello che potete fare quello di donare il sangue per permettere anche di salvare delle vite E soprattutto perché non si riproduce il laboratorio e quindi non usciamo bene l'importanza di questo gesto Le chiedono come mai è stato rovinato l'ingresso del campo sportivo a favore di un privato? Una domanda che ci tenevo che mi facessero questa sera non è di peso da noi quello è stato un progetto approvato dal Presidente Amministrazione su cui noi purtroppo non potevamo fare niente provare ad impugnare gli atti sarebbe stato un massacro perché sarebbe andato per quelle che erano le vie legali e sicuramente non saremmo usciti con le ossa rotte semplicemente perché quello che era stato approvato e quello che era l'esecuzione del progetto rispecchiava la realtà di quanto il Consiglio Comunale preceduto dal precedente sindaco colui che mi ha anteceduto ha approvato con la maggioranza e con qualche voto favorevole di qualche minoranza sicuramente io che ero in minoranza quel progetto non l'ho approvato e non l'ho votato sicuramente a favore anzi Però come diceva non può fare nulla ormai No perché era un progetto già approvato nel 2018 chiuso, era diventato esecutivo ha solo iniziato i lavori in maniera più tardiva dopo che la presente amministrazione aveva perso sostanzialmente le ultime elezioni quindi i lavori, il privato li avrebbe già potuti cominciare già dal 2018 Andiamo avanti con un'altra foto perché il borgo di Mombaroccio rinasce anche grazie alla cooperativa sociale c'è un progetto importante con studenti universitari ci vuole raccontare un po' che cosa è stato fatto in questi mesi o anni? Assolutamente Perché è iniziato nel 2019 questo progetto Un progetto del 2019 dove abbiamo cercato di creare un borgo attivo a misura di anziano cioè il fatto di avere due strutture come l'RP Beato Sante e l'RSA Bricciotti che sono strutture socio-sanitarie dove la nostra storia, i nostri anziani si ritrovano vuoi non vuoi per un motivo legato alla salute vuoi non vuoi anche per essere assistiti da personale qualificato ha fatto sì nella storia che il nostro borgo in passato era famoso perché i nostri malati mentali che erano all'interno dell'ospedale psichiatrico Bricciotti vivessero il borgo come parte di loro quindi non trovavi il malato o meglio la persona affetta da quella difficoltà all'interno e chiusa dentro le strutture ma poteva vivere il borgo quindi lo trovavi a passeggiare all'interno del borgo e diventava parte di noi su questo ho voluto riproporre nel tempo l'idea di quello che poteva essere un borgo a misura d'anziano quindi pensare con i ragazzi all'università che siamo all'università di sociologia coordinati dalla ricercatrice Angela Genova e da altre figure, studenti e nonne vedere come poter riqualificare il borgo per quelle persone che sono più autosufficienti che magari piuttosto che stare a casa con una badante nella loro autosufficienza possono vivere il borgo attraverso delle attività che possono essere culturali abbiamo dei musei importanti attività bibliotecarie e quant'altro perché sono convinto che un'ottima attività sociale sia anche un ottimo risparmio in termini sanitari la qualifica del sociale può permettere sicuramente di questo sono straconvinto una riduzione delle spese in termini sanitari quindi una migliore vita per la figura vuol dire anche migliori e maggiori posti letto per chi è veramente in difficoltà quindi questo progetto prosegue? prosegue, l'ho già proposto a qualche cooperativa volevo parlarne con, ne ho parlata anche con la regione con la dottoressa Storti in particolare che in questo momento vista la situazione pandemica è un attimino sotto pressione ma che riproporrò sicuramente ho un incontro con i sindacati nel merito giovedì ci vedremo alla CGL di Pesaro in via Gagani per discutere di questa questione a fronte di un percorso che i ragazzi hanno fatto che trovo egregio e che ha avuto forti riscontri anche fuori da quello che è il circuito universitario quindi avanti tutta su questo progetto sicuramente altri interventi sempre per i ragazzi dovremmo avere un'altra foto sul progetto del polo scolastico con questa piazza panoramica questo è un progetto che non solo va a riqualificare il polo di infanzia di Villa Grande in quanto la scuola di infanzia è una scuola degli anni 50 costruita con un pilastro centrale incamiciata in maniera difficoltosa quindi che per quanto sia sicura non è mai sicura abbastanza per quello che i ragazzi e le famiglie devono avere questo è un progetto che quelli della mia annunzio un pochettino mi hanno criticato perché ha detto ma perché sindaco se diminuiscono i nostri nasciti le nuove nascite lei fa un progetto scolastico ampliandoli questi spazi perché io credo che se noi offriamo un servizio le famiglie rimangono sul territorio perché se noi offriamo un servizio le famiglie sono in sicurezza questo progetto che riguarda un polo di infanzia quindi 0-3 anni 3-6 anni è un progetto che è rimasto leggermente fuori sulla prima transce di fondi ministeriali si è rimasti fuori dei 4 punti però sarà riproposto con nuovi fondi entro l'8-28 di febbraio per quelli che sono i fondi PNRR perché ci sono tantissime risorse nel merito e noi vogliamo portarle a casa quello che vede Simona è un progetto che riguarda sia la scuola ma anche la riqualificazione di una frazione intera perché l'ultima foto sulla sinistra in basso riguarda la realizzazione di una piazza sopra il tetto di questa scuola di questo polo di infanzia una piazza che a Villa Grande non c'è mai stata e se manca una piazza in un territorio manca un cuore e se manca un cuore non c'è vita e quindi questo è un progetto nel progetto che credo possa avere una riqualificazione sia per i nostri giovani sia per quella che è la riqualificazione di una frazione intera quindi non solo riqualificazioni del centro storico poi vedremo anche la slide che riguarda le mura ma anche le frazioni che giustamente devono essere sempre attenzionate e riqualificate Abbiamo fatto interventi sulla frazione Cairo per creare un polo dedicato ai bambini visto che voi siete la città dei bambini noi creeremo una piccola frazione dedicata ai bambini facendo un ultimo intervento di quasi 50.000 euro per la riqualificazione della pista polivalente con destinazione legata ai più piccoli alla frazione Montegiano abbiamo fatto un altro intervento importante per realizzare quella che è un'area dedicata alla festa della crescita del cocone ringrazio gli amici di Montegiano Cepere una grande collaborazione che hanno sempre dato e quindi si tratta di un altro intervento di circa 50.000 euro più un progetto che abbiamo presentato che riguarda la riqualificazione della casa popolare sempre a Montegiano un intervento di 1.700.000 finanziato dal comune con una progettazione di 45.000 euro e adesso siamo alla ricerca dei fondi questo sì crediamo molto in queste realtà nelle più piccole soprattutto perché nel tempo e negli anni hanno avuto di meno e quindi mi sembra doveroso riqualificare riqualificarle e riequilibrare quello che è stato un gap che come amministrazione ci teniamo a colmare Riferendosi sempre all'ex Brichot abbiamo un altro messaggio solo che il punto prelievo è passato da 8 a 2 volte al mese è stato purtroppo delineato da 8 a 2 in attesa della fine della o meglio della riduzione della crisi pandemica con l'Asus siamo d'accordo a farlo almeno una volta alla settimana quindi tutti i mercoledì ma le ristrettezze dovute al personale che è dovuto conferire su altre strutture Galantari in primis nonché San Salvatore purtroppo non ci permette di garantire il servizio come prima questo purtroppo è un riflesso della crisi pandemica che speriamo di colmare nel momento in cui la situazione sarà un pochettino più rosea andiamo avanti con le slide con l'aiuto della regia abbiamo la scuola un intervento sulle scuole comunali quindi più risorse aggiuntive per ampliamento degli spazi esatto è un bel investimento questo è un bel investimento sono un pochettino arrabbiato col ministero sinceramente perché vi aspettavate di più? no volevo rifarla completamente nuova volevo fare una demolizione ricostruzione perché quelle risorse lì più il contributo GSE avrebbe permesso di fare sicuramente un intervento senza creare il disagio agli insegnanti agli alunni al personale ATA che in questo momento si ritrova a fare lezione e mi scuso sia con gli insegnanti sia con il personale con le famiglie con i ragazzi soprattutto perché fare i lavori durante l'attività didattica capite bene che non è mai così semplice esatto e vero è che abbiamo fatto diviso la scuola in due abbiamo portato la scuola secondaria di primo grado nei nostri uffici comunali quindi una mattina ho il piacere di entrare in ufficio e avere tutti i ragazzi insieme a me che salgono nei vari ambienti che abbiamo messo a disposizione all'interno dei nostri uffici comunali quindi l'ex ufficio tecnico la sala del consiglio comunale che abbiamo smontato e ci abbiamo messo i ragazzi nonché il teatro comunale che è oggetto già dall'anno antecedente quindi dal periodo del covid a disposizione delle scuole per fare attività didattica che è un modo anche di vivere il teatro in maniera diversa avvicino anche ai ragazzi la cultura i luoghi del territorio questo l'abbiamo riscontrato e questo ci ha fatto molto piacere all'intervento ministeriale che abbiamo portato a casa di un milione e mezzo abbiamo aggiunto altri 175 mila euro di fondi a fondo perduto concessi dal ministero per ampliare uno spazio che era un deposito e che potrebbe diventare una bella aula magna per circa 150 metri quadri nella parte sottostante ok dicevamo prima appunto anche della sistemazione delle mura anche lì c'è stato un intervento di 200 mila euro esatto qui siamo pronti a cantierare il simbolo del baroccio e dovremmo fare molta attenzione molta maggiore attenzione rispetto al passato per quello che sono gli effetti derivanti dal fattore climatico perché ci sono alcune situazioni delle mura che vanno osservate vanno prese assolutamente in considerazione perché sono quei disagi interni che non vedi fin tanto che il danno non è arrivato pertanto in questo intervento mitigheremo una difficoltà che abbiamo poco sopra il campo di tamburello quindi entrando per Monbaroccio poco prima di arrivare davanti al Bricciotti c'è un'area di parcheggio che è soggetta a una difficoltà di discesso idrogeologico con questi 200 mila facciamo un'attività importante di prevenzione perché intervenire in termini preventivi vuol dire spendere molto di meno e fare meglio dalle nostre parti di solito i cittadini chiedono anche più cura per le strade manutenzione asfalti voi prevedete quanto meno nella prossima primavera di programmare un piano abbiamo un intervento importante su via Turlo perché abbiamo preso un contributo a fondo perduto di 100 mila euro dalla regione 50 mila euro li metterà il comune e sono 150 mila euro di intervento in una strada in una bretella che colleghe le due provinciali di sp80 sp32 che è oggetto di forte fruibilità da parte di macchine ma anche di mezzi pesanti quindi sarà il primo intervento il secondo intervento lo faremo a tutela della viabilità perché sarà un altro intervento da 145 mila euro su un dissesto idrogeologico in via panoramica quindi a salire dalla strada provinciale per via panoramica sulla destra i miei concittadini vedono una grossa rete da anni posizionata lì ma che grazie a un contributo regionale di 115 mila euro e l'integrazione da parte del comune di altri 30 mila euro potremo secondo me ridurre e migliorare onde evitare un pericolo che nei prossimi anni secondo me si potrebbe veramente aggravare quindi prevenire è meglio che curare anche perché poi i danni sono eventualmente importanti andiamo avanti con le slide passiamo all'elicottero sì questo è un intervento io ringrazio il mio vice sindaco Marco Spinacci che è una persona estremamente di fiducia estremamente seria che si è impegnato su questo percorso avremo il servizio di eleambulanza a Monbaroccio cosa che prima non c'è stata ringrazio anche la regione Marche per aver raccolto la nostra richiesta e aver condiviso le nostre necessità uno perché non siamo a ridosso di un ospedale come può essere Pesor o come può essere Fano e anche pochi minuti a volte sono fondamentali fondamentali e a questo servizio sempre l'assessore Spinacci si è impegnato a integrare tutto il percorso di defibrillatori sul territorio grazie anche al contributo di grandi aziende del territorio e anche di una banca che è la BCC di Fano che ringrazio anzi la BCC di Pesaro chiedo scusa che ringrazio insieme alle attività produttive che hanno allargito delle risorse a fondo perduto così che ci hanno garantito una maggiore sicurezza con defibrillatori su tutto il territorio più il percorso dell'eleambulanza che diventa fondamentale per il nostro comune e io dico sempre del territorio perché riguarda anche realtà vicine limitrofe che possono trovare necessitarsi di un determinato servizio bene andiamo avanti guardiamo adesso qualche dato questi sono 300 mila euro a fondo perduto questi sono 300 mila euro a fondo perduto che rientrano in un progetto che abbiamo fatto l'anno scorso 45 mila euro sempre a fondo perduto quindi con fondi ministeriali che riguardano finalmente il marciapiede Villa Grande e Monbaroccio o meglio almeno parte del marciapiede abbiamo una necessità importante sul territorio perché è una strada non in sicurezza per il pedone è una strada che io conosco fin da da sempre perché l'ho sempre percorsa fin da quando vivo a Monbaroccio quindi ci sono nato fai due conti te Simona e mi ritrovo a mettere in sicurezza finalmente questa strada con una mobilità pedonale un marciapiede che collegherà l'incrocio di strada panoramica al cimitero è un progetto complessivo più importante perché andiamo intorno ai 700-800 mila euro a fronte del percorso successivo che vorremmo fare dal cimitero a Monbaroccio per chiudere tutto quello che può essere un anello che collega anche via Pontaccio e quant'altro però questa è la parte più sensibile e quindi finalmente possiamo accantierare già da gennaio coi tempi che richiedono i bandi in questi casi però finalmente nel 2022 potremo dare luce a questo progetto che è sentitissimo dai miei concittadini bene andiamo avanti proseguiamo ancora 150 mila euro per la risoluzione appunto di questi problemi legati al dissesto idrogeologico esatto anticipato prima l'intervento se vedete sulla sinistra c'è quella boscaglia che nasconde una rete sul basso un continuo fluire di terra e finalmente con questi soldi riusciremo a mitigare il problema con diversi pali per assettare la situazione anche perché sopra c'è un'importante struttura immobiliare con diversi appartamenti quindi non possiamo far rischiare nulla di più di quello che è stato fatto fino adesso quindi puntate tanto anche sulla messa in sicurezza delle strade frane poi tra l'altro assolutamente abbiamo delle aree molto sensibili che conosciamo e quindi su quelle cerchiamo di intervenire dovremo intervenire ancora di più sul centro storico perché abbiamo delle situazioni che voglio prevenire quanto prima possibile questo invece che vedete è un progetto che abbiamo presentato al GAL che è al vaglio dell'elargizione dei contributi e delle risorse da parte del GAL sono circa 270 mila euro di intervento cofinanziato 230 dal GAL 50 dal Comune più o meno siamo in quell'ordine delle spese e che finalmente prevede una chiusura di un chiostro per renderla un'area intergenerazionale nonché un punto d'utile per svolgere attività didattiche per svolgere un cineforum per svolgere un'assemblea un consiglio comunale un matrimonio quello che è andiamo a coprire a vetro tutta una realtà di un chiostro che collega i musei che sono a piano terra nascosti da dietro quelle arcate alle biblioteche che sono al piano soprastante quindi mi immagino un'area dove l'anziano può vivere una piazza d'inverno e il ragazzo il giovane che può svolgere l'attività di studio nella biblioteca soprastante quindi generazioni che si incrociano all'interno di un progetto che amo molto beh rilacciandoci al discorso che faceva prima è importante realizzare costruire per non far andare via magari la popolazione anche questo è un punto di ritrovo un punto di aggregazione importante per la socialità degli abitanti assolutamente noi per mantenere sul territorio i nostri giovani abbiamo bisogno di dargli dei servizi adesso fortunatamente o sfortunatamente la crisi pandemica ci ha creato questa sinergia di un lavoro che può essere più smart più anche domiciliare e quindi abbiamo la possibilità una doppia possibilità di attingere delle risorse e di far sì che i nostri ragazzi si interfaccino con l'amministrazione comunale perché quello che abbiamo fatto in questi due anni è interfacciarsi costantemente con le scuole che ringrazio dai docenti alla nuova dirigente prima avevamo la Cinzia Biagini giocavamo in casa che era di Monbaroccio ora ringrazio la dottoressa Buma che è diventata la nuova dirigente della Pirandelle e oltre a questi cerchiamo di interfacciarsi molto fortemente anche con ragazzi universitari in cui crediamo molto a cui abbiamo chiesto di realizzare insieme a noi il nostro piano regolatore futuro per far sì che loro ci diano le indicazioni di come vogliono vedere Monbaroccio da qui a vent'anni da qui a trent'anni quindi ascoltate le future generazioni sì perché io mi ricordo una volta quando avevo 18 anni che è venuto qualcuno a chiedermi se mi volevo candidare al comune di Monbaroccio ero in una sede di un bar io ero a sedere qui e questa persona mi si è seduta accanto me l'ha chiesto io avevo anche delle aspettative come un ragazzo di 18 anni poteva crearsi poi con la persona non si è più presentata e io ancora sono a sedere in quel bar con quel ricordo e non voglio far vivere i ragazzi quello che ho vissuto io anzi voglio che loro si interfaccino direttamente con l'amministrazione comunale e diano le loro idee diano il loro supporto e mettono anche pochettino a disposizione quelle che sono le loro mani abbiamo fatto due percorsi uno con la regione Marche ci sto a fare fatica che è stato importante perché ha fatto sì che i ragazzi più piccoli quindi si parla dai 14 15 18 anni potessero interagire con l'amministrazione comunale per vedere che cos'erano i nostri musei e come valorizzarli abbiamo fatto altri percorsi con le scuole che sono state importanti il mio viaggio in Germania è partito da quello che era la relazione con le scuole e quindi insomma ci teniamo a far sì che questi ragazzi facciano parte di noi e della nostra amministrazione bene con questo bel messaggio ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Monbaroccio Emanuele allora un altro messaggio per lei una siste mattina le chiedono alla strada che collega il Beato Sante a Montegiano a quando ci passavamo sempre in bicicletta ma non è più praticabile un vero peccato ma per il resto complimenti per tutto ringrazio anche per questa domanda perché ho questa affermazione perché il progetto della mobilità sostenibile oltre che con Fano riguarderà anche altre realtà come Cartocetto Coglio Almetauro e Fossombroni su cui stiamo lavorando e questi circuiti che dal Beato Sante scendono per Montegiano rientrano in questo percorso di mobilità sostenibile quindi crediamo molto in questa tipologia di turismo crediamo molto in questo turismo che qualifica la mente che qualifica la salute che riqualifica anche gli aspetti culturali il Beato Sante naturalmente per noi è un punto di riferimento sotto tutti questi tre punti di vista certo possiamo parlare anche di mezzi elettrici? sì noi abbiamo avuto un contributo regionale di 30.000 euro sui 40 che andremo a spendere nell'anno 2022 per l'acquisto di due mezzi un elettrico totalmente elettrico e un altro ibrido che si integreranno anche l'installazione intanto di due colonine elettriche una in centro storico una in inizio Villa Grande e stiamo predisponendo un altro bando per l'installazione di altre due colonine elettriche una al centro di Villa Grande e l'altra pensavamo in area Beato Sante quindi mobilità sostenibile mobilità elettrica crediamo molto in questi percorsi che poi sono quelli che vedo che tanti comuni stanno avanzando e su cui la comunità europea ci chiede delle risposte speriamo di dargliene quanto prima invece per quanto riguarda la palestra comunale ci sono delle novità? sì ho sentito il ministero in questi giorni eravamo in attesa dell'erogazione di 1.150.000 euro per la riqualifica della palestra mi hanno fatto presente che a fronte di quella che è la parte purtroppo burocratica che richiede tantissimi mesi sembra che entro il 31-12 possono darci la certezza dell'erogazione di questo importo che per noi diventa fondamentale e che si integra a 1.700.000 euro circa che abbiamo visto prima per la scuola perché a quell'intervento di 1.700.000 l'altro 1.150.000 riguarda una struttura limitrofa e quindi su cui i ragazzi potranno andare a svolgere le loro attività educative e non solo i ragazzi della scuola perché poi è una palestra comunale che può essere messa a disposizione di tutti Prima di chiudere e di parlare del Natale vorrei rivedere con lei il viaggio della memoria quindi ripercorrere quello che è stato quello che è successo nei mesi scorsi una sfida importante ma anche difficoltosa ripartiamo dal perché dalle motivazioni di questo viaggio Beh è nato tutto grazie a un gruppo di lavoro che mi ha coinvolto dal primo giorno è un percorso che riguarda un comitato che sta valutando anno per anno sempre più elaborati delle scuole che provengono da tutta Italia che riguardano i periodi più brutti della nostra storia che erano quelli legati ai rastrellamenti tedeschi ma che in quei periodi permetteva di trovare quelle persone che potevano dare quella luce che mancava eravamo in questa situazione qua l'accoglienza del sindaco di Farkirken che ringrazio dal giudice della corte costituzionale dal figlio di Eder che era lì presente io quando ho incontrato queste persone in quella sede che dista 40-50 km dal confine austriaco quindi da 40-50 km dalla città natale di Hitler ho visto negli occhi di queste persone un po' di commozione sì ma anche la voglia di riscattarsi da quel periodo buio che magari il mondo gli ha etichettato e su cui loro non si ritrovano anzi si vogliono scrollare di dosso quanto prima questa situazione e questa relazione che si è avuta con l'Italia che si è avuta con un baroccio che mi ha visto anche partecipe e ci ha visto partecipe come comunità non solo nell'ambito scolastico ma anche con il giardino dei giusti di Milano dove sono stato a febbraio a prendere quella pergamena che ho consegnato poi a Eder il quale Eder non poteva essere a Milano perché il lockdown gli impediva di uscire dalla nazione tedesca eccola qua questa è la pergamena che mi sentivo di portargli per come il padre suo nel 1953 venne al Beato Sante a sciogliere quel voto che fece nel 44 quando il Beato Sante salvò lui e tutte le persone che grazie a lui furono salvate a fronte di un rastrellamento tedesco che a fine della guerra non guardava in faccia nessuno sebbene prima lo guardassi insomma perché comunque il periodo era quello che era e che comunque mi ha visto volevo farlo l'anno scorso poi non ho potuto farlo per motivi legati al covid l'ho fatto quest'anno e lo rifarei sicuramente cento volte ritornando a questo percorso un po' in treno un po' in bicicletta un totale di chilometri bella domanda credo che siano nell'orbita di 1.4 andate e ritorno più o meno comunque è un bel tragitto di cui sono circa 250 in bicicletta e credetemi quando sono arrivato là a parte la bellezza delle bic della ciclovia che loro hanno in termini di mobilità sostenibile e quindi attrezzatissimi da quel punto di vista per percorrere tutti i chilometri che ho fatto là in bicicletta posso dire che l'emozione che ho vissuto io e l'emozione che hanno vissuto loro può superare qualsiasi chilometro percorso c'è stato però qualche momento veramente difficile sì c'è stato i momenti la prima sera quando sono arrivato che era buio pesto non c'era nessuno in giro e dovevo trovare il posto dove dormire quindi ero un po' in difficoltà però sono stato poi fortunato il giorno dopo mi sono fatto un'altra cento e passa 130-140 chilometri non ho mai dialogato con nessuno non c'era un bar aperto giusto con i suoi amici sui social ogni tanto vedevamo questi video che lei inviava per tenere aggiornati i suoi concittadini sì se mi succedesse qualcosa almeno mi ritrovano da qualche parte però non c'era non c'è l'usanza di un bar aperto come da noi o altre situazioni lì si apre dopo le 5 una birreria o quant'altro e si vive in maniera con orari un po' diversi allora intanto mi fermavo da qualche operatore del posto chi tagliava la legna chi metteva a posto le macchine allora mi fermavo lì a fare due chiacchiere e rinfocciarmi anche a bere mangiare qualcosa sì un po' di zuccheri perché magari il chilometro non tanti questa è la Sabina che saluto questa era la partenza alle 5 e 3 quarti della mattina e lei che tirava sulla seranda e mi ricordava tanto i miei genitori che insomma avevano attività simili che si alzavano come nella mattina e tiravano sulla seranda e già con un bel sorriso alle 5 e 3 quarti sì perché lei era un pochettino più incredula di questo cosa vuole a stora e invece sabbi solo una foto perché poi riparto è un'amica che abbraccia quindi un viaggio che le rimarrà nel cuore assolutamente sì assolutamente sì chiudiamo con il Natale dicevamo prima ingressi contingentati però un buon successo seppur tutto in sicurezza ci sono stati tanti volontari che hanno contribuito per la riuscita dell'evento assolutamente quest'anno la disponibilità dei volontari è stata fondamentale perché con le contingenze che appena ha detto Simona con l'ingresso a porta maggiore l'uscita a porta marina quindi la porta sottostante e tutte quelle che erano le ristrettezze quindi evitare che ci fossero assembramenti dentro la casa di Babbo Natale piuttosto che nel paesaggio invernale piuttosto che in piazza o in altri luoghi richiedeva uno sforzo ulteriore importante il mercatino come vede parla da solo queste luci in centro storico questi paesaggi che sono meravigliosi realizzati dalla direttrice artistica Beatrice Vincenzi che ringrazio come ringrazio la parrocchia perché se passiamo pensiamo che tutto è partito da un piccolo ambito parrocchiale per poi passare all'amministrazione comunale e nel 2012 2013 passare alle proloco che l'hanno portato a questo altissimo livello è un motivo di soddisfazione per tutta l'amministrazione e per tutta la comunità monbaroccese perché qui in questi mercatini e anche nel nostro vengono da tutti d'Italia vengono d'Italia per osservarci per guardare e per capire che cosa offre il nostro territorio che cosa offrono i nostri borghi che cosa offre la regione Marche perché è una regione che ha delle grossissime potenzialità per la qualità della vita che offre per la qualità di tutto quello che è un circuito culturale turistico legato a un territorio molto dolce che va dalla collina al mare e quindi offre qualcosa che sono convinto nessun'altra regione offra e anche quest'anno aderite al progetto del Proloco della provincia di Pesorubino il Natale che non ti aspetti quindi continuate anche quel percorso assolutamente ringrazio il presidente della Unpli Provinciale Damiano Bartocetti per averci coinvolto che è stato presidente della Proloco fino all'anno scorso e ha svolto un ottimo lavoro negli ultimi dieci anni faccio un grossissimo in bocca al lupo alla nuova presidente eh sì alla nuova presidente Lilaria che si è data ha dato la sua grandissima disponibilità per fare quello che è la realizzazione quest'anno di mercatini a fronte di 60 giorni in cui sono stati realizzati mentre in tutti gli anni si partiva da gennaio per poterlo realizzare a novembre quest'anno a fronte di quella che è la situazione che tutti purtroppo conosciamo in 60 giorni è venuto a realizzare tutto e farlo in 60 giorni credetemi è veramente veramente poi è anche molto giovane quindi è stata tosta è tosta una bravissima ragazza intelligente che è veramente un valore aggiunto per il nostro territorio così come tutto il nuovo direttivo che ringrazio per tutta la disponibilità e tutti i volontari che sono stati disponibili ringrazio le forze dell'ordine perché quest'anno hanno avuto ringrazio il luogotenente Alfonso Petroselli così come il nostro responsabile del presidio Franco Generali perché veramente quest'anno hanno dovuto organizzare in maniera veramente decisa importante tutto un percorso che ci ha messo alla prova perché avevamo i primi a partire e perché dovevamo dimostrare che in sicurezza si poteva fare e non era facile assolutamente sindaco io la ringrazio per essere stato con noi e le auguriamo anche un buon Natale io mi permetto di fare un augurio a tutti voi ma un augurio particolare me lo sono sempre promesso a tutte le famiglie che in questi due anni di covid ho sentito chi in quarantena chi con altre difficoltà anche più gravi a tutti i miei concittadini e soprattutto anche quelli che in questi due anni hanno sofferto tutto quello che hanno sofferto causa covid quindi un abbraccio a tutti i miei concittadini mombarrocesi e un abbraccio a tutti voi che arrivate nelle case non solo nelle case ma anche dentro quegli ospedali dove magari qualcuno sente solo e che grazie alla vostra bellissima informazione potete sostenere e fargli passare quelle ore più serene e un pochettino o meno a pensare nel pensare alla loro salute grazie sindaco e intanto vi ricordo che anche la mattina di Natale faremo una mezz'oretta di diretta per tenervi in compagnia questa era l'ultima puntata dell'anno di primo cittadino poi ci rivedremo ovviamente a gennaio un ringraziamento alla regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra sindaco grazie ancora per essere stato con noi e buona serata grazie a voi per l'invito buon Natale buon anno a tutti voi grazie Emanuele e allora buona serata a tutti voi l'informazione torna domani sempre qua sul canale 17 di FanTV arrivederci grazie a tutti